Disney Junior presenta un magico momento di Dottoressa Peluche. Sapete come Dottie ha avuto il suo stetoscopio magico? Tutto è iniziato grazie alla nonna. Io ho visto che tu ci tieni molto ai tuoi giocattoli e ho pensato che questo potesse aiutarti ad averne ancora più cura o almeno a conoscerli meglio. Anche la mamma ha uno stetoscopio come questo. No, beh, non proprio come questo. Questo qui è speciale. Oh, è bellissimo! Grazie, nonna. Sono contenta che ti piaccia, piccola mia. Goditelo. Dico davvero. Sei bellissima. Chi ha parlato? Sono stata io. Ma solo perché è vero. Sei davvero? Bellissimo. Bianchina. Aspetta, un animale di peluche? Che parla? Oh, devo essere ancora malata. Per tutte le torte di fragola, spero di no. Tutto bene, zuccherino. Voglio solo aiutarti. Il tuo pulso pulsa più in fretta del popcorn scoppiettante. Tutto questo è molto strano. Attento al coraggine. Oh, non so che stia succedendo. Oh, non so che stia succedendo. Oh, non ne sono proprio sicuro, ma forse ti stai per sciogliere. Tutto questo è solo un sogno, non è vero? Sembra che ti occorra un abbraccio. Io credo di sì. Ah, allora siete animati? Sicuro che lo siamo, e come? Oh, ma è fantastico. Ma come è mai possibile? Quando il bambino giusto riceve il giusto stetoscopio? E quello che hai ricevuto è quello giusto per te? Noi giocattoli possiamo animarci. Succede solo a voi o a qualsiasi giocattolo? Non vedo perché dovresti voler animare altri giocattoli quando hai già tutti noi. E per noi intendo me. Sì, qualsiasi giocattolo. Oh, sembra non abbia funzionato. Ne sei sicura? È vivo e sonoro. Wow, ma è davvero fantastico. Eravate già i miei tesori preferiti. E ora siete i miei nuovi migliori amici. È sorprendente, anche divertente. Non credi ad un drago volante? Sì che ci credo, ora che vi vedo. Bene, ti va una tazza di tè fumante? È una favolosa magia! Ho tanti amici in più. Ho tanti giochi farò. Ed ora in poi staremo insieme noi. Già so che io mi divertirò. Ho tanti amici in più. Sì, è così. Alcuni regali sono molto speciali. Sono un tesoro per sempre. Proprio come lo stetoscopio magico di Dottoressa Peluche. Divertiti con tanti magici momenti e non perdere la serie Dottoressa Peluche a Disney Junior. e non perdere la serie Dottoressa Peluche. Per sempre. Chiara 5